Il generatore di fumo avviato, sovralimentazione attivata. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Il generatore di fumo avviato, sovralimentazione attivata. Il generatore di fumo avviato, sovralimentazione attivata. Il generatore di fumo avviato, sovralimentazione attivata. A tutte le unità, segnalo la posizione di un bersaglio strategico. Ricevuto! Fulmini e saette! All stations, reporting the position of shooting targeting. Attestato, cacciato, pediniere, nemico. La squadra nemica è in vantaggio. Generatore di fumo avviato, sovralimentazione attivata. Richiedo assistenza. Ho bisogno di supporto. Affirmative. Rilasciata cortina fumogena. Rilasciata cortina fumogena. Rilasciata cortina fumogena. Sopralimentazione attivata. Rilasciata cortina fumogena. Rilasciata cortina fumogena. Rilasciata cortina fumogena. Assumious bulgeri. Laufital bomba. Rilasciata cortina fumogena. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. Corazzata nemica distrutta. Rilasciata cortina fumogena. Sovralimentazione disattivata. Attenzione, segnalo la posizione del bersaglio. Concentrate fire on the designated target. I need intelligence data. All forces provide cover for that target. A presto. 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 Concentrate fire on the enemy warship. Siluri a prua! Abbiamo affondato un cacciatorpediniere nemico! Sopralimentazione disattivata! Sopralimentazione disattivata! La nostra squadra è in vantaggio! La battaglia terminerà tra cinque minuti. 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 Generatore di fumo avviato. Problema risolto, signore! Sovralimentazione disattivata. E che cavolo! Rilasciata cortina fumogena. L'incrociatore nemico distrutto! Affirmative! Sovralimentazione disattivata. Sovralimentazione disattivata. Sovralimentazione disattivata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bye for now.